Musica Eh si certo, come no? Allora, ecco, è esattamente come mi immaginavo Ogni volta che finisci una fase, sono tre cazzo di livellini, ogni livello c'ha Visto quanto sono grandi gli spazi, potrebbero essere o quattro o cinque livelli Dipende un attimo, adesso non ho il metro per misurarli Però forse quattro, ho fatto così col dito, forse sono quattro Comunque, laboratorio di gru, andiamo al gru-torial numero due Ok, nuova arma, quindi aspetta un attimo L'altra volta siamo andati di sotto Ora possiamo andare di qua, quindi L'altra volta era vento e ghiaccio Questa volta, ma... Ok, spara Mi chiedo se serva solo sugli oggetti o se faccia qualcosa quest'arma Ok, eccoci Ah, gru, sei pronto a conoscere la mia ultima invenzione? Dica La pistola magnetica Chi l'avrebbe mai detto? Che nome fantazioso Attrazione, le calamite attraggono Duh Sì, sì, e il tuo senso dell'umorismo respinge Possiamo proseguire? Gua sta feste Faccia di merda Vabbè, sti... sti checkpoint un po' vaghi, eh Con questa pistola puoi muovere delle piattaforme nascoste che, guarda caso, sono di metallo Guarda caso, eh Sia mai No, in realtà... L'unica cosa Che mi incuriosisce al momento Vediamo No, non posso Ok, in realtà posso, ma È un pelo più difficile fare così Dicevo, sarei curioso di capire cosa fa questa pistola sui minion Però lo scopriremo tra poco, secondo me Quando sei su una piattaforma mobile e le pareti sono magnetizzabili Ci muoviamo dalla piattaforma, classico Puoi sparare al muro per avvicinarti Aha, certo signore Proviamoci Con che concetto metafisico lo fa? Non si sa, però va bene Va bene così Va benissimo Proseguiamo Eccoci qua Vediamo se mi hai ascoltato Dobbiamo utilizzarle tutte Usa la pistola magnetica Il raggio congelante E la pistola d'aria Per raggiungere l'uscita Ah, proprio così semplice Vabbè, oh Oh, eh Qua è colpa mia Non ho avuto Spazio di manovra No, di nuovo Ok, aspetta Ma l'uscita è questa qui Sopra O là Sopra In ogni caso No, non ho abbastanza spazio di manovra Niente Aspettiamo un attimo No, dovevo proseguire Perfetto Ah, giusto Eh, ciao Ok Era un filo incastrata Alla perfezione questa Eh È l'ora dei rompicapi Dei rompicapi No, si scherza Dovrebbero essere facilmente magnetizzati Se gli scagnozzi sono abbastanza vicini Vengono attratti dalle calamite Come quella lassù In questo modo potrai togliere di mezzo oggetti pesanti Ma, beh Perché sì Alla fine Voglio dire Facciamo un po' di sfruttamento Neanche minorire Nanorile Ah, proprio Diventano Metal Mario Che sollievo Andiamo avanti Diventano Metal Mario Come in Super Mario 64 Ma gli manca un ingrano Serve quello rotondo Sicuro I miei calcoli La magnetizzazione Di uno schieramento circolare Ah Al pannello Creerà Un ingranaggio Perfetto Certo Spero Perché dire Metti quello tondo E colpiscilo Era brutto Ecco qua Allora Mettiamo Quello tondo Qui Ecco fatto Ora Ti serve solo energia Scommetto Che gli scagnozzi Magnetizzati Sono ottimi conduttori Sono ottimi conduttori Ordina E certo Andare al pannello Elettrico E colpiscilo Eh vabbè Non sappiamo Con quale scienza magica Funzioni tutto ciò Ma Non ci lamentiamo Dai Adesso sai Tutto quello che c'è da sapere Sulla pistola magnetica Fammi sapere Come funziona Sul campo E Potresti dirmi Com'è all'esterno Del laboratorio Non esco Troppo spesso Ma come? Ma povero Eh vabbè Vediamo 17% Un po' basso Un po' basso